allora riprendiamo questo punto col punto 2 permettere all'utente di inserire una durata complessiva DTOT espressa in minuti in questo campo qua e alla pressione del bottone set di album utilizzare un algoritmo ricorsivo per restare un set di album dal grafo quindi dai vertici precedenti che abbiano una certa serie di caratteristiche includa A1 quello di prima includa solo album appartenente alla stessa componente connessa di A1 e l'abbiamo già calcolata includa il maggior numero possibile di album quindi che stiamo massimizzando la dimensione di questo insieme sotto vincolo che abbia una durata complessiva questo insieme di vertici definita una somma di album in esso contenuti non superiore DTOT quindi stiamo cercando una sorta di zaino semplificato dobbiamo cercare di mettere il maggior numero di album possibile senza superare la durata che ci è stata imposta quindi la procedura ricorsiva parte allora un album A1 che mi serve per identificare una componente connessa cioè un insieme di vertici questo insieme di vertici se faccio la somma delle loro durate ha un certo valore tra l'altro la somma delle durate la so perché l'ho appena calcolata nel punto D quindi so più o meno il numerino a cui fa riferimento ad esempio questa componente qua ha una somma delle durate di 517 quindi se il mio DTOT fosse maggiore ai 517 basta prendere tutti i vertici e sono a posto se DTOT è minore ai 517 non posso prendere tutti i vertici non posso prendere tutti e 3 i vertici in questo caso ne devo prendere un numero inferiore se riesco a prenderne 2 la cui somma sia minore della soglia bene altrimenti ne prenderò 1 e così via quindi a livello di procedura ricorsiva cosa devo costruire? devo costruire un insieme un insieme all'ordineo in termini costruttivi in cui provo ad aggiungere via via i vertici in combinazioni diverse fino a quando aggiungero vertici fino a quando non supero la soglia di somma identificata e poi mi terrò da qualche parte il massimo di insiemi che sono riuscito a ottenere quindi una procedura a questo punto nel mio modello ricorsiva che riceve dal controller due informazioni cioè il vertice selezionato e il DTOT il DTOT no? la soglia public come lo possiamo chiamare ricerca un nome un po' vago ma qui cosa dice set di album pressione la bottona set di album ricerca va beh ricerca set restituisce un set di album anche lui ricerca set set massimo ricevendo un album di partenza che serve per identificare la componente connessa sempre a 1 e un valore che è il DTOT di durata totale questa è l'interfaccia pubblica della ricorsione poi ci sarà la procedura ricorsiva in cui ad ogni livello io me l'immagino così ad ogni livello della ricorsione aggiungo un elemento quindi al livello 0 un set di 0 elementi a livello 1 un set di 1 elementi allora provo col primo poi provo col secondo provo col terzo ad ogni livello aggiungo un ulteriore elemento che non era stato aggiunto nei livelli precedenti e purché ovviamente non si supera il DTOT e ad ogni chiamata ricorsiva controllo la dimensione di questo insieme se questa dimensione è maggiore del massimo o no se è maggiore del massimo mi salvo la fotografia dell'insieme che sto considerando qui si parla di insiemi ma nella ricorsione poi devo avere un ordine con cui aggiungere gli elementi quindi mi converrà forse probabilmente usare una lista e non un insieme perché gli elementi di questi insiemi li metto in una lista così posso parlare del primo del secondo del terzo elemento perché altrimenti in un insieme non posso pescare gli elementi per indice quindi mi diventa difficile anche se hai l'operazione cancello l'ultimo quando faccio backtracking come faccio a prendere l'ultimo che ho inserito che nell'insieme l'ordine si perde quindi nella ricorsione converrà a lavorare con liste anche se in realtà sono dati di tipo insiemistico allora proviamo a immaginarci la ricorsione privata la parla del metodo privato diciamo cerca di che cosa ha bisogno allora abbiamo una soluzione parziale che cos'è la soluzione parziale è un insieme di vertici che ho già selezionato quindi list di album parziale potremmo avere un livello della ricorsione dobbiamo avere il di tot da portarci dietro per confrontarlo e dovremmo ovviamente avere l'insieme totale di tutti i vertici da cui pescare quindi sarà un'altra list di album tutti chiamiamolo tutti così mi ricordo questi variabili qua di tot che è un double queste variabili qua sono cancello la c e metti uno spazio queste variabili qua di tot tutti e tutti sono costanti cioè non valiano mai però la procedura ne ha bisogno quindi o le metto nella classe model oppure me la devo passare nelle chiamate ricorsive tali e quali e il resto mi sembra che sia invece la parte costruttiva della ricorsione con questa soluzione parziale che via via cresce e cosa fa la procedura ricorsiva beh prima di tutto a me danno una soluzione parziale e io mi posso chiedere questa soluzione parziale mi migliora l'ottimo se mi migliora l'ottimo lo devo salvare io poi dopo da questa soluzione parziale cercherò di scendere nella ricorsione a cercarne delle altre però non ti so dire quando sono in questa soluzione parziale se è già una soluzione finale definitiva cioè è già un caso terminale lo scopro solo dopo che ho provato ad aggiungere altri vertici e mi sono accorto se vi violano o non violano la somma dei pesi ok e quindi sto creando sto esplorando un grafo in cui ad ogni vertice potrebbe essere l'ultimo perché potrebbero non avere figli quindi io per non sbagliare ogni volta che entro in un vertice controllo per caso tu mi migliori il massimo se poi avrai dei figli allora sicuramente questo massimo verrà ulteriormente migliorato dai tuoi figli ma nel dubbio sei tu il migliore che ho visto noi normalmente abbiamo una if tante volte if livello uguale massimo ok vado a valutare il valore della soluzione solamente nella soluzione finale ma qui la soluzione finale non so di che lunghezza è e qui non so a priori dire tu avrai dei figli o no avrai ancora dei nodi sotto quindi lo valuto in ogni nodo anche su ogni soluzione parziale potenzialmente è definitiva è finale ok allora per farlo però devo ovviamente calcolarmi il peso di questa soluzione qua il peso insomma la durata della soluzione parziale io posso decidere di calcolarlo ogni volta e quindi posso avere qua un durata parziale in realtà mi serve solo dopo scusate però calcolo la durata parziale mi servirà un metodo del genere oppure posso decidere di calcolarlo a pezzettini nel senso che ogni volta che scendo di un livello ti passo al livello successivo la durata parziale che avevo fino a quel momento e poi quando scendo al livello successivo sommo la durata dell'album e questo mi evita di ogni volta di dover fare questa sommatoria che rischio di fare milioni di volte su un dato che in realtà in parte ho già questo per dire che a un certo punto mi servirà a calcolare questa durata ma io posso anche averla qui tra i parametri così come quando scendo aumento di uno il livello quando scendo aumento la durata parziale della durata del brano che ho appena aggiunto e questo mi permette di evitare di avermelo calcolare ogni volta allora ce l'ho già ok siamo in una ricorsione io so che ce l'ho già perché qualcuno me lo manda e ovviamente quando io chiamerò al mio sotto diciamo al mio di sotto la di nuovo la funzione cerca dovrò passargli il valore aggiornato però è un beneficio mutuo no? allora poi invece per gestire il massimo cioè avere la soluzione finale ho bisogno di una variabile diciamo così permanente una variabile distanza che si ricordi la lunghezza e insieme e la soluzione parziale la lunghezza massima che ho trovato quindi queste cose qua le mettiamo su tra le variabili private per la ricorsione mi servirà un intero che è la dimensione massima che ho visto finora e mi servirà una lista di album che è il set massimo che poi sarà il risultato che devo sostituire no? allora con questi due valori io posso gestire il caso ottimo quindi vado a vedere se la dimensione della soluzione parziale che ho adesso che coincide con il livello è maggiore della dimensione massima che ho visto finora allora ho trovato una soluzione migliore quindi dim max uguale parziale punto size e mi salvo anche come ho chiamato questa cosa qui set max uguale uguale new array list di parziale mi faccio una copia di parziale così alla fine della ricorsione questi due signori qua mi daranno una soluzione migliore poi poi in ogni caso io ho trovato una soluzione può aver migliorato o no quella che conoscevo ma poi devo cercarne altre quindi devo cercare eventuali figli provare ad aggiungere al parziale tutti gli album ancora potabili quindi io posso avere un for album nuovo due punti tutti itero per cercare di aggiungere un nuovo album prendendo da tutti gli album possibili purché ovviamente non siano già stati presi quindi devo controllare che questo nuovo album non sia già tra gli album presi e l'eventuale aggiunta di questo nuovo album non mi aumenta non mi faccia superare la soglia se no non lo posso aggiungere cioè devo costruire una nuova soluzione parziale valida ed è valida se non contiene elementi duplicati e se la somma delle durate non supera il massimo il di tot quindi la condizione per gestire per provare ad aggiungere un album nuovo sarà quella che innanzitutto parziale non contenga ancora il nuovo e il peso la durata del parziale più la durata di questo nuovo deve essere ancora minore del massimo minore o minore uguale? non superiore quindi minore uguale quindi vuol dire che la durata del parziale che suppongo di averlo ricevuto come parametro quindi durata parziale più la durata di quel brano che è nuovo appunto get duration get durata deve essere minore uguale al di tot quindi mi genero un altro dimmi tu dici io tu stai dicendo ho una soluzione parziale con il codice che ho scritto io aggiungo degli elementi tu stai dicendo magari possiamo anche provare a toglierli anzi che aggiungerli dalla lista a tutti ah ok allora il tuo ragionamento fammi fare dopo il tuo ragionamento è giusto e dice guarda in realtà la lista a tutti continua troppa roba perché ogni volta che ogni volta li vado a scandire tutti e man mano via via che scendo nella ricorsione saranno sempre di più le volte in cui cerco di provare a mettere dentro qualche cosa che già c'era sì anche qua anziché fare tanti contents uno potrebbe costruirsi incrementalmente una lista o a questo punto meglio un insieme perché cancellare una lista è costoso quindi è costoso come fare un contenso alla fine quindi non ci ho guadagnato nulla però un set da cui tolgo elementi e quindi avrò sempre lo stesso numero di elementi un po' sono in tutti un po' sono in parziale e li travaso da una parte dall'altra no? che è sicuramente un metodo più efficiente sì dimmi potresti utilizzare un set ma una lista non è un po' sono un po' sono un po' di 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 si potresti utilizzare un set al posto di parziale come parziale anziché una lista il problema è che poi quando aggiungi è facile togliere sì devi fare una sottrazione tra l'insieme si può fare il problema è principalmente qua in questo ciclo qua io ho un ordine che è sempre lo stesso controllo d'ordine degli elementi che se ho un set ogni volta che aggiungo tolgo un elemento da quel set non è detto che gli elementi rimanenti vengano iterati nello stesso ordine quindi rischio magari di ripetere più volte devo fare molta attenzione si può fare io adesso facciamo così lo imposto come array non sarà il massimo dell'efficienza poi se vogliamo possiamo provare a ragionare dove andare a guadagnare efficienza portando operazioni che abbiano una complessità o di 1 anziché o di n questo è il vantaggio che l'abbiamo già fatto mille volte sappiamo che funzioni e poi possiamo migliorarlo una volta che funziona e quindi confrontare che non perdiamo soluzioni valide allora qui in teoria abbiamo la promessa che stiamo costruendo solamente cose valide quindi dentro parziale ci vado ad aggiungere è valide perché questo controllo lo faccio già quindi dentro parziale non metto nulla che violi il vincolo ok parziale punto add di nuovo faccio la ricorsione in cui passo parziale passo il livello più 1 lo vedete in realtà non lo sto usando vabbè per abitudine me lo porto dietro la durata parziale a questo punto è incrementata quindi durata parziale più nuovo punto get durata e poi mi porto dietro come due belle zavorre il di tot e tutti e poi lo rimuovo rimuovo l'elemento nuovo nel caso la lista sarà sempre l'ultimo nel caso insieme invece devo fare passandogli l'oggetto nuovo questo è sicuramente sovrabbondante perché non solo lavoro con le liste ma se io ho tre elementi lui mi va a calcolare insieme uno uno due uno due tre poi torniamo indietro uno tre che è nuovo ma poi uno tre due che in realtà avevo già visto perché si chiamava uno due tre ok quindi volendo anzi dovremmo mettere qualche vincolo in più in cui diciamo evito di rigenerare soluzioni che siano permutazioni puramente permutazioni di soluzioni che ho già visto in precedenza partiamo dalla versione semplice poi diciamo possiamo fare ciò che vogliamo e basta nel senso che poi non c'è altro da scrivere nella procedura ricorsiva ho già controllato qua se ho migliorato il massimo qua provo a generare tutte le soluzioni che posso generare in un modo per ora un po' stupido ma sperabilmente corretto non ho più nulla da fare la ricorsione si esaurirà perché a un certo punto questo if ad un certo livello in avanti sarà sempre falso o perché raggiungo la durata massima quindi non posso aggiungere altra roba o perché ho saturato tutto il parziale tutti i vertici sono già nel parziale quindi non c'è più nulla da aggiungere quindi si limita da sola a un certo punto e non genera più nulla quindi noi a questo punto possiamo tornare nella nostra procedura di chiamata predisporci la prima chiamata e poi raccogliere il risultato predisporci la prima chiamata questa significa costruire l'insieme parziale per ora sono liste quindi facciamola come lista album parziale uguale new array list vuota allora poi gli devo passare il livello che sarà zero durata parziale che sarà zero perché all'inizio non ho ancora nessun vertice d tot che sarà d tot perché l'ho ricevuto come parametro tutti gli album della componente connessa che posso ottenere da get component da questo metodo che abbiamo appena implementato prima non me li sono salvati da nessuna parte me li ricalcolo ma anche perché se poi l'utente non avesse cliccato su quel bottoncino non ha detto che io me li sia salvati quindi per tranquillità me li ricalcolo quindi avrò una lista se vogliamo sempre fare liste di album tutti uguale una nuova array list che sia popolato da una copia di get component del mio A1 del mio album A1 e quindi ho usato questo parametro per calcolare la mia componente connessa che come abbiamo visto è istantaneo mi creo una array list che è il mio tutti su cui lavorare la ricorsione poi devo ricordarmi di inizializzare le variabili esterne le variabili globali che sono queste due dimensione massima e insieme massimo quindi dimensione massima uguale a 0 setmax uguale a nulla quindi la prima chiamata ricorsiva cosa capita arriverà parziale vuoto questo parziale punto size uguale uguale dimmi ma dal testo si dice che A1 deve essere contenuto dentro la soluzione finale non ci conviene inserire subito A1 allora aspetta un attimo non me l'ho colto questo è vero mi ho dimenticato questo quindi toglierlo già da tutti hai ragione A1 deve essere per forza una soluzione hai ragione me l'ho dimenticato questo pezzettino qua e pensavo semplicemente ai vertici della componente di A1 quindi lo posso mettere dentro per primo quindi parziale è una release vuoto ma dentro ci metto A1 quindi la dimensione massima che sicuramente è 1 sì qui c'è un possibile conflitto perché se per caso A1 fosse già da solo avesse già da solo una durata maggiore del DTOT queste regole qua vanno in conflitto tra di loro potrebbe non esistere una soluzione quindi in teoria dovrei verificarlo se A1 ha già una durata maggiore di DTOT lasciamo perdere ok quindi se abbiamo if A1 punto get durata fosse già maggiore di DTOT allora insomma troviamo un null perché la soluzione non c'è se invece lui è minore di DTOT allora possiamo costruire una soluzione parziale che contenga lui e poi da lì provare ad andare avanti giustamente tu dici io trovo tutti quelli della sua componente connessa tranne lui perché lui non ha senso che provi ad aggiungerlo allora ci può stare un remove di A1 e poi parto a questo punto la dimensione massima è 1 il set max è una lista cioè se io non trovassi nulla di meglio perché magari non riesco mai ad aggiungere nulla la soluzione ottimale è A1 da solo che ha dimensione 1 e il suo set massimo corrispondente è dovevo creare è una copia di parziale in questo momento del parziale che contiene A1 da solo ok allora abbiamo tenuto conto di quel vincolo grazie per avermi fatto notare cerca dov'è? la prima chiamata io avrò parziale il livello 1 non più 0 perché ho già un elemento la durata parziale sarà la durata di A1 poi cosa avevo? di tot e tutti e alla fine cosa devo restituire? devo restituire beh in questo caso avevo scelto set quindi devo fare un set anziché una list set max quindi potrebbe essere un return new asset di set max di set max ok proviamo a vedere cosa abbiamo sbagliato se abbiamo sbagliato qualcosa ma probabilmente rifacciamo un run adesso noi avevamo quello da 120 che è un po' piccolino come soluzione perché ho solo 3 vertici però magari possiamo provare in questa componente connessi ne ho 3 quindi magari le altre componenti connessi sono più grandi andiamo a vederle scusa? sì ma è parecchio più grande quindi volevo una via di mezzo sì sì l'altro esempio qua da 60 però già 92 ma questa componente proviamo con 120 e magari trovo una componente da 3 la vediamo tanto quel punto riusciamo anche a controllare quasi a mano e poi vediamo se ci sono delle componenti con più vertici perché la ricorsione sapete che cresce in fretta no? allora 120 creiamo il grafo aspettiamo i nostri 20 secondi ok allora abbiamo detto che Greatest Hits sappiamo che ha 3 elementi e una soglia di 517 quindi se io mettessi 600 ah non sono pirla non ho controller quindi non fa niente posso cliccare su questo bottone fino a giovedì ehm devo ganciare il controller ehm devo ganciare il controller estrai set a questo punto l'estrai set cosa fa? va a prendersi ehm la stessa cosa che faceva prima per prendersi la 1 questo qua questo qua poi va a prendersi il DTOT eh no è durata questa come si chiama questo? andate XT X può essere qual è l'elemento devo andare a vedere come si chiama nell'fxml quella casella forse si chiama X si chiama TXT ok vabbè è un errore di copia e incolla da progetti precedenti ma va bene get value get text verifichiamo se DTOT forse null eh null null non può essere mai equals la stringa vuota allora gli chiederessi qualcosa XT result append text specificare durata totale barra N return ok se no andiamo avanti abbiamo DTOT abbiamo A1 chiediamo al model di darci un set di vertici Gli ottimi sui gli ottimi uguale model punto get punto come si chiamava il metodo del model? ricerca set ricerca set massimo ok ricerca set massimo A1 di tot ah no scusate devo ancora fare il conversione da stringa a double fai d tot uguale double punto parse c catch number format exception c'è un messaggio che dice che è formato il numero errato ok così abbiamo DTOT e possiamo passare alla procedura ricorsiva e poi e poi quello ci dice con il risultato quello dobbiamo farcene stamparlo estrarre un set che abbia le seguenti caratteristiche vabbè possiamo stampare questo set ok vediamo cosa esce fuori allora riproviamo a questo punto a lanciarla con speranza di vedere un risultato 120 crea grafo prendi caffè comunque delle macchinette perché ci mettono più di 20 secondi vediamo guardate stizze poi devo mettere 600 e dovrei darmi un set con tutti e 3 ce l'ho messo su un vincolo infatti ne metto 3 se io mettessi 500 sono sicuro che tutti e 3 non vanno perché la somma di 3 farebbe 517 e mi dà un insieme con 2 provo a scendere io poi dovrei vedere questi album che è durata anno quando arrivo a 300 mi ha scelto il greatest hits perché evidentemente ha un peso maggiore o su minore, minore di 300 mentre invece questa mia istoria ha una durata maggiore che è quello che ho selezionato tra l'altro se io scendessi al di sotto di questo mi dà l'unpoter exception perché ho ritornato penso facessi 100 mi da un null perché ho ritornato un null e non lo sto controllando quindi problema mio del controller se io invece vado a prendere un'altra che ne so, l'host, che ne so che è una componente da 10 con durata totale di 8000 allora 10 è già un numerino che nel mondo della ricorsione un 10 fattoriale comincia ad essere un numero antipatico però possiamo provare a mettere anche qua un 200 ok, l'host da solo è già più grande di 200 500 l'host da solo è più grande di 500 800 1000 ok, 1500 riesce a mettermi l'host, che era l'host season 1, che era obbligatorio e è riuscito anche io a filarci dentro di Office quindi la dimensione massima che ho riuscito a trovare con 1500 è 2 se io provassi con 2000 è riuscito ad aggiungere anche la stagione 4 di Lost ma di Office la sta tenendo e così via man mano che aumento però a un certo punto mi devo aspettare che la ricorsione ah, siamo sempre abbastanza veloci e quindi 9000 dovevo prendermeli tutti e alla fine li prende tutti quindi non sto tampando la dimensione ma si vede che cresce la maggior parte degli altri hanno sempre, sono sempre la stessa componente connessa ovviamente per esempio qua la mia history e vedo che aveva 500 vabbè ottengo ovviamente il primo che mi trova è sempre lui, è sempre ciò che ho selezionato e gli altri dipendono dalla soglia quell'altro A60 che aveva una componente connessa alla 92 non vorrei azzardarmi ma tanto facciamo in fretta bloccato se era unplugged quindi abbiamo preso, abbiamo cambiato il grafo ho messo 60 provo a mettere unplugged e mi dice che l'unplugged fa parte di una componente connessa di 92 elementi con durata totale di 6700 qui le cose si complicano anche perché abbiamo messo dentro tanti brani che hanno durata più breve quindi le combinazioni possibili saranno anche, accettabili saranno anche di più mentre prima erano solo brani che erano molto larghi più di 120 minuti, più di due ore e quindi le combinazioni possibili per starci dentro uno slot dentro uno zaino erano più limitate allora qui avevamo un 6700 proviamo a partire tranquilli magari con un 500 e già così lavora perché è vero che l'insieme finale che ha una dimensione di durata di 500 sarà non tanto grande però avendo 92 vertici da considerare ogni volta non mi aspetto che arrivi a termine no? ok, mentre lui sta calcolando o non calcolando il risultato magari andiamo a riprendere il discorso sulle ottimizzazioni di cui parlavamo prima allora, come sempre andiamo sulla ricerca come sempre noi abbiamo due su una procedura ricorsiva due direzioni in cui cercare di ottimizzare se ne abbiamo bisogno la prima e la più importante è sempre ridurre il numero di chiamate poi ottimizzare la singola chiamata ma viene dopo per cui le ottimizzazioni che faccio passando da set a lista o viceversa sì, sono importanti ma sono molto meno importanti rispetto a evitare magari di fare le chiamate inutili no? allora, qui cosa stiamo facendo? stiamo generando questo codice qui genera tutte le permutazioni possibili di un certo insieme di elementi quella sta girando permutando 92 elementi che è un numero abbastanza esagerato poi non trovo tutte le permutazioni perché a un certo punto questo DTOT limita no? la dimensione di questi insiemi ma se non ci fosse questo limite se andassimo fino in fondo genereremmo tutte le permutazioni molte permutazioni sono per noi equivalenti cioè permutazioni che hanno gli stessi elementi in un ordine diverso non solamente tutte le permutazioni permutazioni di tutti i sotto insiemi cioè se io ho 10 elementi non mi sto solo calcolando tutte le 10 permutazioni di 10 tutte le 10 fattoriali permutazioni dei 10 elementi ma un elemento due elementi nei due ordini possibili tre elementi nei sei ordini possibili quattro elementi nei 24 ordini possibili e così via ok? allora però avere lo stesso insieme di elementi con un ordine diverso non mi cambia le mie funzioni di valutazione che è la durata ed è tutto equivalente avere 1 2 3 o 3 2 1 come durata però io qua li sto generando come se fossero soluzioni diverse perché dentro la parziale la versione parziale è diverso allora cosa posso fare? potrei provare a imporre una condizione in più quando vado a creare la soluzione parziale che mi permette di non ripetere mai due soluzioni che siano una la ricombinazione di un'altra un riordinamento dell'altra senza però andare a controllare cioè non sarebbe stupido dire io adesso mi salvo tutto quello che ho guardato e vado a vedere se ce n'è una che ha già la permutazione di una che ho visto devo farlo in modo costruttivo allora ad esempio prima ho detto 1 2 3 e 3 2 1 sono equivalenti tanto vale usare una sola 1 2 3 ha i valori crescenti ed è l'unica tra tutte le sue 6 permutazioni che ha i valori crescenti quindi io potrei imporre un vincolo in cui gli elementi che metto nella soluzione parziale devono essere sempre crescenti crescenti rispetto a qualcosa qualche attributo che adesso decidiamo per cui io farò 1 2 3 ricorsione 1 1 2 poi dopo aver fatto 1 2 non provo neanche a fare 1 2 1 e poi accorgimi che l'1 c'era già vado solo a cercare i valori che siano maggiori uguali di quello che ho già del 2 che ho già 3 poi tornerò indietro rincerò la ricorsione dal 2 ma dopo che ho messo il 2 non vado più a cercare di mettere 2 e 1 perché 1 non rispetta la regola di andare sempre in modo crescente metterò 2 e 3 dopo 2 e 3 non posso mettere nulla perché non c'ho più nulla ci sono 3 elementi più grandi di 3 tornerò indietro metterò 3 da solo questo cosa vuol dire? che noi potremo su questo tutti non andare a guardarli tutti ma guardare solo quelli dopo quello che ho messo cioè la prima volta ragioniamo per indici ok? anziché per elementi la prima volta questo qui ho un ciclo for che va da 0 a tutti meno 1 size di tutti meno 1 al primo livello va bene così poi ci ho messo un certo elemento dentro dentro parziale c'è un elemento nelle ricorsioni successive ha senso provare ad aggiungere solo gli elementi che siano maggiori che vengano dopo l'ultimo che ho inserito allora noi lo possiamo fare questo ragionamento o sull'indice e quindi anziché passarsi l'oggetto e passiamoci degli indici dei numeri che non è il livello attenzione io posso essere al livello 2 ma aver messo dentro l'elemento 7 e quindi da quel momento in avanti aggiungo solamente elementi che hanno un valore maggiore di 7 proverò con 8 con 9 con 10 eccetera dopo che ho messo il 9 al livello successivo proverò solamente con 10 11, 12 quindi non lo ricavo dal livello devo guardare l'ultimo elemento che ci ho messo devo portarmi dietro l'indice oppure chi se frega dell'indice l'indice avrebbe un vantaggio che mi permette di prendere la lista tutti e dire da qui in avanti ti provo prima non ti provo più l'altro modo invece potrebbe essere più semplice di usare un attributo un attributo di nuovo nuovo è un oggetto che ha cos'ha? è un id scusate che è un integra al primo non lo vedevo perché uno potrebbe dire guarda io inserisco nel parziale solamente delle soluzioni in cui l'id dell'album è crescente è chiaro che è un pochino meno efficiente perché io non so la variabile tutti non li contiene in ordine crescente di id quindi li devo provare tutti e scartare quelli che non mi servono però mi basta in questo codice aggiungere solamente una riga in questo caso facendolo crescente per per secondo il criterio di un suo attributo no? quest'altro sta ancora piangendo quindi stoppiamolo per la pietà cioè l'idea è che posso dire io allora se anziché dire se è parziale contains nuovo dico se il nuovo che voglio aggiungere non è maggiore dell'ultimo che ho aggiunto boh la butto via non mi interessa neanche guardarli tutti mi interessa guardare l'ultimo perché visto che ricorsivamente per induzione se sono maggiori dell'ultimo sono maggiori di tutti quelli precedenti perché li sto aggiungendo in ordine crescente quindi io vado a vedere se lo posso aggiungere solamente se nuovo punto get album id è maggiore di parziale punto l'ultimo quindi parziale punto get di parziale punto size meno uno e amiamo tanto java per queste cose qua che ci fa scrivere punto get album id certo che ci perdiamo la combinazione 1 3 2 ma perché l'abbiamo già trovata che si chiamava 1 2 3 è proprio quello che vogliamo cioè per ogni combinazione in cui i numeri non sono in ordine crescente ne esiste una crescente che ho già considerato in passato in precedenza e qui ci sta dando una bella mazzata in termini numerici sto passando a occhio croce da n fattoriale a 2 l n 2 l n è il power set la dimensione del power set la dimensione dell'insieme di tutti i sotto insiemi mentre la avevamo ma in realtà non è neanche 2 l n fattoriale ma era n fattoriale più n meno 1 fattoriale più n meno 2 fattoriale ma gli n meno 2 e 3 svaniscono 2 l n è sempre una brutta bestia ma meno brutta di n fattoriale quindi questo ci costa veramente poco e chiaramente perché perché in questo problema l'ordine dei fattori l'ordine degli elementi nella soluzione parziale non influenza il criterio di selezione in altri esercizi a me viene in mente quello del meteo in cui andavo a vedere l'elemento quello precedente quindi importava l'ordine in cui c'erano gli elementi non solamente quegli elementi ci fossero ma chiaramente questo esercizio qua non lo posso fare non credo che ci permetteremo di che questa modifica riusciremo ad apprezzarla con questi esempi perché di sicuro quella da 10 già la faceva istantaneamente quella da 90 non ce la fa comunque magari ne troviamo una una via di mezzo una componente connessa che abbia un numero intermedio di elementi che ne so prendiamone questo qui vediamone a 92 fa parte ma sono quasi tutti parti di quella componente di A quello da 10 ma quello da 10 già lo conosciamo e 92 più 10 fa 102 quanti erano questi in totale? 102 no ho solo due componenti connessi una da 10 e una da 92 niente come ho detto non riusciamo a trovare una via di mezzo su cui provare a testare se riusciamo a salire oltre il 10 che non sia quel mostro da 92 quindi questo è il primo è forse il passo più importante io ho fatto confrontando gli ID è un po' meno efficiente che confrontando gli indici per confrontare gli indici sai già quali elementi prendere quali non prendere confrontando gli ID invece li devi scandire tutti e poi decidere per tutti se prendere o non prendere però e questa è diciamo così l'unica ottimizzazione che mi viene in mente semplice che riduca drasticamente cioè proprio di ordini di infinito scende da un ordine infinito a uno più basso il numero di chiamate alla procedura ricorsiva poi da qui in poi ci sono ancora decine di ottimizzazioni che si possono fare sul ridurre il numero di volte che è itero su questo ciclo e quindi come diceva qualcuno di voi il tutti lo posso far dimagrire man mano che scendo dopodiché c'è da chiedersi mi costa meno far dimagrire cioè avere una collection che aumenta diminuisce aggiungo tolgo gli elementi o mi costa meno tenere sempre gli stessi e fare qualche testo in più non lo so dipende che testo facendo bisogna provare no? a quel punto già la durata non abbiamo mai nessun punto in cui facciamo una sommatoria quindi se avessi una funzione tipo calcola durata che ogni volta sul parziale fa la sommatoria mi verrebbe da dire ma calcoliamolo un pezzo per volta incrementalmente quindi così come calcoliamo la durata parziale incrementalmente potremmo calcolare incrementalmente i candidati tutti però già con questo criterio nuovo quando aggiungo un elemento dovrei togliere da tutti tutti quelli che sono minore uguale a lui non solamente quello che ho tolto e allora bisogna scandirmela quindi siamo lì ecco però sono tutte ottimizzazioni usare una lista o usare un set sono tutte ottimizzazioni che vanno a modificare di un fattore costante la durata della ricossione perché fanno sì che la singola chiamata anziché durare che ne so 20 microsecondi ne durerà 10 ma il fattore principale è il numero di chiamate che facciamo ovviamente tutti questi aggiornamenti qui all'esame non ve li chiediamo siamo già contenti se riuscite a impostare una ricorsione che nella maggior parte dei casi funzioni poi qui ci sono una serie di casi limite nel senso che se io ti metto già un valore che è maggiore del size non chiamo neanche già maggiore della somma non chiamo neanche la procedura ricorsiva potrei anche restituirlo perché se è maggiore di della dimensione della durata totale se ti metto 9.000 perché devo spendere 100.000 anni di procedura ricorsiva quando so già che sono tutti no? ci stanno dentro tutte vabbè però sono diciamo così casi particolari che magari in quel momento lì non ti vengono in mente non sono neanche particolarmente importanti no? quindi dal punto di vista dell'esame quello che ci interessa aver impostato che aver riusciato almeno a impostare la ricorsione nei suoi aspetti principali come si vede come abbiamo visto oggi alla fine quando c'è una ricorsione ci fa in fretta implementarla quasi sempre rispetto al primo punto che abbiamo piegato un'ora e mezza il secondo punto che abbiamo piegato mezz'ora più densa forse più difficile però avendo già poi tutto prima tutti i metodi pronti prima tutti i valori che ci servivano prima siamo stati abbastanza rapidi dimmi se a uno ha? scusami se a uno ha? maledetto hai ragione questo test qua dovrebbe escludere l'album a uno perché la uno in realtà dovremmo fare sì hai ragione questo è sbagliato perché se a uno avesse un lì troppo alto noi non andremo mai a considerare perché la cosa che ho detto prima qualunque percutazione tu trovi che non è crescente ne hai già provata un'altra prima non è vero perché a uno l'abbiamo fissato in prima posizione di brutto e quindi dovrei fare che cosa? dovrei non mettere a uno nella ricerca toglierlo proprio del tutto e decrementare il di tot del peso di a uno e poi glielo schiaffo in fondo glielo aggiungo in fondo c'è quella uno che rompe le scatole togliamolo togliamolo da tutti proprio l'abbiamo già tolto però partiamo con un parziale vuoto non aggiungiamo il parziale e decrementiamo il di tot dai facciamolo l'abbiamo il parziale non metto più a uno ok? quindi parte vuoto nella ricerca parto dal livello zero e il di tot non è di tot la durata attuale è zero e di tot non è di tot ma di tot meno la durata di a uno quindi guarda a uno c'è mi costa 30 ok? allora il totale meno 30 è il budget che mi rimane a disposizione per tutti gli altri e allora la procedura ricorsiva fa lo stesso lavoro partendo da un parziale vuoto non c'è più la uno dentro qui si schianterà subito la prima volta perché parziale punto size meno uno get di meno uno non gli piace tanto quindi al primo livello dovrò evitare questa testa al primo livello vanno bene tutti quindi dovrò dire livello uguale a zero oppure il livello è maggiore di zero e è vera questa condizione quindi questo oppure mi fa sì che questa condizione non venga valutata perché altrimenti si schianterebbe il primo livello partiamo con un parziale vuoto parziale punto size vale zero meno uno fa meno uno quando faccio il get di meno uno ovviamente non ho l'evento precedente da verificare a livello zero ho messo zero come livello di una chiamata sì zero e poi dovrebbe andare avanti nello stesso modo ovviamente quello che restituisco qua come risultato set max non ha a uno dentro e ce lo devo poi aggiungere a forza alla fine adesso sappiamo che non c'è bisogna basterà semplicemente set di album risultato uguale questa cosa qua anziché riscrivere questa la calcolo e ci aggiungo a uno lo tolgo ottimizzo senza di lui con un budget ridotto e lo rimetto in fondo vediamo se non abbiamo fatto errori grossolani e quello effettivamente è il rischio di ottimizzare che tu dici che bello ho buttato via dei casi inutili ma in questo caso avevo buttato via anche tanti casi utili quindi qua sto lavorando ovviamente come dicevo in questi esempi qua da dieci la differenza di di efficienza non notiamo quindi diventa difficile capire l'efficacia potremmo fare una cosa che potremmo fare giusto per soddisfazione propria è andare a contare il numero di chiamate della funzione cerca in questa versione e nella versione precedente e vediamo se effettivamente abbiamo un abbattimento che ne so magari da due milioni a cinquecentomila una cosa del genere ok come dicevo non cercate di ottimizzare durante l'esame perché si rischia poi di prendere magari una strada adesso noi in questo corso non riusciamo a vederlo normalmente prima di ottimizzare occorre fare operazioni non riusciamo a vederlo perché non abbiamo gli strumenti ci sono che sono chiamati profiler sono dei tool che fanno eseguire un programma e alla fine ti danno una statistica del tempo speso numero di chiamate in ciascuna funzione e tempo speso in ciascuna funzione perché quello che succede è che quando io cerco di ottimizzare qualcosa la mia mente mi porta ad ottimizzare le cose che sono più facili da ottimizzare che vedo più facili da ottimizzare poi magari sto andando a ottimizzare una parte del programma che conta per 1% la parte che conta per 95% non la tocco perché non ci ho pensato quindi di qua bisogna essere molto cauti e andare avanti in modo data driven prima trovo i dati capisco dove ho il problema di efficienza e poi agisco lì non miglioro qualcosa tanto male non fa sì forse male non fa ma ti fa perdere tempo con un impatto praticamente trascurabile sul risultato va bene non mi viene altro da dire su questo esercizio quindi lo possiamo considerare concluso se non avete altre domande io vi posso salutare per la prima volta durante l'anno con 10 minuti di anticipo ok grazie di tutto grazie a tutti